E' appena trascorso il primo giorno per richiedere il reddito di cittadinanza e la Sicilia si piazza sul podio delle regioni dove sono state presentate più domande. Con 5.328 richieste non è la prima ma la terza dopo Campania e Lombardia dove rispettivamente sono state presentate 5.770 e 5.751 domande. A livello nazionale complessivamente le domande sono state 44.125 di cui 8.492 online e 35.653 presso gli uffici postali. Lo comunica il Ministero del Lavoro indicando anche che ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 centri di assistenza fiscale. Sull'isola presenza numerosa e costante dei cittadini che hanno richiesto gratuitamente il reddito di cittadinanza presso i CAF della UIL Sicilia. Nessun assalto ma affluenza sostenuta dichiara la consulta nazionale dei CAF. Le macchine organizzative hanno aperto la stragrande parte dei propri uffici avendo preparato gli operatori a reggere l'impatto di migliaia di persone. In realtà l'uso degli appuntamenti fissati già soprattutto per l'ISEE ha fatto sì che la temuta folla non ci sia stata. Nessun intoppo nelle procedure, il programma ha funzionato correttamente per tutta la giornata. L'errore più comune è la richiesta del reddito di cittadinanza da più componenti e la stessa famiglia, quando invece può essere chiesto da una sola persona. Per presentare la domanda servono alla mano il documento di identità, il codice fiscale e l'attestazione ISEE.